Se pensiamo all'italiano tipo, ci viene subito in mente una persona che gesticola tanto. Ma è vero che gli italiani utilizzano tanto le mani per comunicare? E in quali occasioni? Ma soprattutto, perché? Venite a scoprirlo con noi. Ragazzi, voi gesticolate tanto? Abbastanza. Sì, abbastanza, dai. Gesticoli spesso? Eh sì, inevitabilmente, essendo napoletana sì. Ragazzi, gesticolate? Sì, è uso comune gesticolare nella comunicazione, nel parlare tra persone, amici, parenti. Adesso non gesticolo perché mi sono quasi sentito... L'italiano diciamo è unico anche in quello, quindi è giusto che sia unico nel gesticolare. Tu gesticoli tanto? Abbastanza. Abbastanza, tantissimo, eccessivamente. Gesticoli spesso? Eh sì, quando non riesco a esprimermi bene con le parole, lo utilizzo per esprimermi meglio, di solito. Ad esempio, che gesti usi nel tuo quotidiano? Eh, faccio così con le mani, di solito, oppure vado a enfatizzare quello che dico. Gesticoli tanto? Dipende. Però stai gesticolando? Eh, infatti, viene spontaneo. Gesticoli tanto? Sì, tantissimo. Ogni volta che parlo e soprattutto se magari sono arrabbiata, tendo molto a gesticolare. Ragazzi, gesticolate spesso? Beh, direi di sì, a volte anche inconsapevolmente penso. Soprattutto inconsapevolmente. Te ne rendi conto quando parli con uno straniero che non fa assolutamente nessun tipo di gesto, di movimento. Allora a quel punto ti rendi conto di stai gesticolando più di lui e ci vuol poco, no? Per enfatizzare quello che stiamo dicendo, sicuramente il gesto rende la frase completa. Quali sono i gesti che fate più spesso? Eh, questo, ma anche questo. Cioè, dipende da quello che si dice. Questo molto spesso. Però adesso me li dovete spiegare. Allora, questo è, diciamo, è bonus, puoi utilizzarlo sempre. Tipo, ma che vuoi? Ma che hai detto? Quelli che hai utilizzato? Per esempio, vuol dire, cioè, vai a farti un giro perché hai detto una stupidaggine oppure veramente non sta né in cielo né in terra quello che stai facendo, che stai dicendo. Eh, gesticolo mentre parlo. Eh, sì, e poi essenzialmente è per dare forza alla parola, all'espressione. Sì. Adesso, parlando di questo argomento, ho messo le mani in tasca, ma è una forzatura, perché naturalmente mi viene di gesticolare così. Quali sono i gesti che fai più spesso? Poi magari questo. E cosa vuol dire? Vuol dire tanto, vuol dire perché, che cosa, insomma, un bel po' di cose. Ne fai altri nel parlato quotidiano? Sì, però magari, vedi, già facendo così non mi rendo neanche conto, è qualcosa di automatico. Quindi anche quando non si vuole dire qualcosa di specifico, quando si parla in Italia si usano tanto le mani per enfatizzare? Assolutamente sì. Quali gesti fate? Quando parlo, per spiegare, per, vedi, per dare contestualizzazione, per contestualizzare quello che dico. Poi vivo all'estero, quindi ho insegnato tutti i vari gesti napoletani ai miei colleghi su. In quale occasione si gesticola? Magari quando si è molto presi dal discorso e allora sì, si gesticola tanto, sì. Quali sono i gesti che fai più spesso? Questo? Ma che stai dicendo? È arrivata l'ora della pausa caffè. Abbiamo visto che i gesti sono fondamentali per capire appieno l'espressività degli italiani, ma le parole restano le più importanti. E se volete ampliare il vostro vocabolario, ho un'idea per voi. Diventate membri della nostra comunità. Infatti i membri della nostra comunità hanno accesso a contenuti extra come video senza sottotitoli, audio lento, quiz, cruciverba e tanto altro. C'è anche l'Isitalian Podcast e i membri della nostra comunità in questo caso hanno accesso alla trascrizione interattiva, alla traduzione multilingue, al vocabell per con le dieci parole più importanti minuto per minuto, l'after show e tanto altro. Diventare membri è molto semplice. Basta seguire il link che trovate in descrizione e il gioco è fatto. Ma secondo voi perché gli italiani gesticolano così tanto? Secondo me è proprio... fa parte del nostro essere gesticola... fa parte del nostro essere. È come se noi volessimo integrare la persona alla quale stiamo parlando nel nostro discorso... non so... Ma io penso che il corpo comunichi in qualche modo, quindi noi comunichiamo non solo con le parole ma anche con i gesti, cercando di trasmettere di più il concetto di un determinato stato d'animo, di un determinato pensiero. Quindi aiuta diciamo a esprimere al meglio ciò che si vuole dire, ciò che si pensa. Gli italiani gesticolano tanto e i napoletani in particolare perché hanno un'espressività che non riescono a contenere dentro le parole e allora si esprime così con tutto il corpo. Forse perché essendo un cuore, diciamo, solidale, quindi allora cerca di aiutare a capirsi meglio, no? Forse per quello. Secondo te perché gli italiani gesticolano molto di più rispetto ad altri popoli? È una cosa che mi sono sempre chiesto, non ho mai trovato risposta. Però è bello, cioè io mi chiedo loro come fanno a parlare senza gesticolare. Secondo te perché gli italiani gesticolano così tanto? Questa è una bella domanda. Io penso che per farsi capire meglio, soprattutto i napoletani, è una questione di comunicazione. La comunicazione è più efficace, perché è meglio, contestualizzi, sì, ti concordo. Perché ci piace comunicare meglio, quindi il gesto ti aiuta di più a parlare con le altre persone. Ma probabilmente per dare più enfasi a quello che si sta dicendo. Secondo me quando si gesticola tendi a sottolineare meglio quello che vuoi dire, quindi lo marchi di più. E secondo te qual è la spiegazione? Perché gli italiani gesticolano di più degli altri paesi? Non lo so, sinceramente non lo so. La domanda è che te che ne pensi. Facciamo un piccolo quizio, io dico qualche frase e tu mi devi tradurre in gesti. Cosa vuoi? Che vuoi? Cosa vuoi? Che vuoi? Bisogna unire le dita della mano e fare questo movimento sul sultorio. Vai via, come si dice? Vai via. Vai via, bisogna unire. Il pollice e l'indice, in questo modo, è fare un movimento verso l'esterno. Ti picchio. Ti picchio. Ti picchio. Questo, insomma, imita un poco una mazzata, una bastonata. Se ti prendo... Se ti prendo... Questo sembra un ok, ma si gira in questo modo e si versa la persona. Se ti prendo... Aumauma. Aumauma vuol dire... L'osco, no? In modo... Facciamo però aumauma, senza farlo sapere a troppa gente. Di nascosto. Sotto banco, no? Sotto banco, esatto. In modo l'osco, ma... Rubare. 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 Si fa questo movimento a canone delle dita della mano. Paura, hai paura. Hai paura, eh? Hai paura. Bisogna unire tutte le dita della mano come in... Che vuoi, ma in questo caso il movimento è così. Perfetto, tutto fila. Con due mani addirittura. Questo è. Perfetto. Perfetto. Tutto fila. Perfetto. È finito il cibo, oppure sono finiti i soldi? È pernudazione. È finito. Basta. Non ce n'è più. Ma tu sei matto. Ci facciamo una spaghettata? Ci facciamo una spaghettata? Eh, sì o... Una roba di gel. Una roba di gel. Questa che dici tu è dopo che hai mangiato la spaghettata. È buona. È buona. Ci facciamo una spaghettata? Una spaghettata. Perché le dita vanno ad imitare una forchetta. Sei furbo? Ah, così. Però non l'avremmo traduta in questo modo. Evitiamo di dire la versione che ho pensato. Sono figlio in drocchio. Abbiamo visto che gli italiani non possono fare a meno di gesticolare e conoscono praticamente tutti quelli che sono i significati dei gesti più comuni, più popolari e d'uso quotidiano. Ma alla domanda perché gesticoliamo, quasi tutti hanno avuto delle difficoltà. Perché effettivamente non c'è una vera e propria risposta. In tanti ci hanno detto che è per aumentare l'espressività, per enfatizzare con le mani, con il linguaggio del corpo, quello che vogliono dire. Ma se dobbiamo trovare una ragione storica, possiamo andare indietro fino ai tempi dei Romani. Ebbene, già ai tempi dei Romani si gesticolava tanto. E forse questa era qualcosa che poteva avere origine dalle diverse etnie che erano presenti a Roma. C'erano persone che provenivano da tutto l'impero. E quindi si faceva difficoltà a parlare tutti la stessa lingua e ci si aiutava con le mani. Altri dicono che invece è una tradizione teatrale. Quindi essendo l'Italia un paese da una forte tradizione teatrale, questo teatro si traduce poi nella vita quotidiana. E l'ultima possibilità è quella che vuole come ragione il fatto che l'Italia è composta da diverse regioni. E fino a 100 anni fa, 150 anni fa, era difficile che parlassero tutti bene l'italiano. e quindi per utilizzare una lingua franca in aiuto all'italiano maccheronico si utilizzavano i gesti. Insomma, per capirsi, tra centro, nord e sud spesso si utilizzavano le mani invece della parola. Conoscevate il significato di questi gesti? Nel vostro paese, nella vostra lingua, nella vostra cultura si gesticola tanto? Fatecelo sapere nei commenti in basso. Alla prossima! Se ti prendo... Questo è il continuo!